Erano stati esclusi perché assunti da aziende con codice a teco non regolare o perché dal contratto risultavano occupati nonostante in quel momento non potessero lavorare. Ora invece pare che anche questo vulnus burocratico sia stato risolto e che finalmente anche gli stagionali potranno accedere al bonus da 600 euro introdotto prima dal decreto Cura Italia e ora nella sua versione riveduta e corretta dal decreto rilancio. Parliamo di lavoratori del mondo del turismo, bagnini di salvataggio impiegati nel settore ricettivo e nella ristorazione così come nei parchi divertimento estivi che ora hanno tempo fino al 3 giugno per presentare la domanda all'Inps per ricevere non solo il bonus di maggio ma anche gli arretrati. Lo ha spiegato nel dettaglio la ministra del lavoro Nunzia Catalfo. A queste categorie sono stati destinati 220 milioni di euro. Tutti questi lavoratori possono richiedere il bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio. Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione. Questo è valido perché ancora non aveva presentato nessuna domanda. Le domande presentate e respinte verranno riesaminate in ufficio, perciò i lavoratori che già avevano presentato la richiesta non la dovranno rifare, in quanto verrà considerata valida quella precedente.